Grazie, signor Presidente, signor Ministro, signor Sottosegretario, colleghi e colleghi. In premessa, lasciatemi fare gli auguri di pronta guarigione al Presidente Berlusconi, perché credo che pur essendo asintomatico, come dire, fortunatamente asintomatico, debba essere in questo momento raggiunto, credo davvero senza né doppi sensi né altre motivazioni, un auguro di pronto ristabilimento.